I cospiti vitali a Leopoldo del Belgio e la moglie, li ritroviamo anche stavolta a un campo di golf, quello di Montorfano. Queste campagne d'autunno incorniciano il loro romanzo nuziale e si conobbero a Lecken nel 41 quando Leopoldo era prigioniero di Hitler. Liliana diventò sua moglie, figlia di impiegato, non potrà diventare regina. Mossa nervosa di giocatrice, sarebbe bello assestare un buon colpo sulla palla. Spettatori della partita, protagonisti nel grande gioco della storia.